La portatile, ve la tenete in macchina, potete farvi la doccia dove volete. La prendete al sole, vedete che lì è trasparente, l'acqua si scalda e poi c'è il doccino e vi potete fare una bellissima doccia. Oppure se la preferite fredda, la lasciate bella fredda. Mica male. Bea, vieni qui, vieni qui, Bea, Bea, dai vieni su, Bea, vieni qui, anche la Bea la doccia, anche la Bea, anche la Bea la doccia. Bea, che bello!